Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dalla Giovane Infiamme che mi chiede di parlare del film del 2019 di produzione statunitense di Simon Kinberg X-Men Dark Phoenix Di che narra questo X-Men Dark Phoenix? Siamo dopo Apocalypse, che già Singer ha fatto il suo film forse peggiore comunque dopo Apocalypse e gli X-Men sono visti un po' in o meglio nel senso che insomma hanno salvato il mondo dalla distruzione di questo qui e quindi vengono mandati nello spazio per fare una specie di salvataggio per una cosa molto pericolosa la nostra Jean Grey con i suoi poteri riesce a salvare tutto però si piglia nel viso praticamente una forza spaziale che avrebbe dovuto polverizzare del tutto lei e tutto Vellecentor e invece la nostra torna ancora più forte con dei poteri medianici ancora più forti diventa potentissima e diventa appunto questa Fenice noi scopriamo che praticamente negli anni 70 lei da piccino ha fatto un grande casino e il nostro professor Xavier l'aveva messo una specie di sigillo alla mente perché era troppo potente e avrebbe distrutto tutto solo col pensiero quindi la nostra presa appunto in tradimento secondo lei dagli X-Men decide di unirsi a altri e poi inizia a fare tutto il suo casino in giro finché poi si scontrerà quell'alieno che è quello lì che sembra buono ma poi è cattivo Vuc un casino per una storia completissima che in realtà però alla fine non dice un emerito cazzo se non sei miliardi di effetti speciali purtroppo è così nella sceneggiatura è veramente claudicante rimbalza da una cosa all'altra un film è troppo breve non riesce a dare spazio ai protagonisti il cambiamento non esiste è uno di quei classici film mediocri proprio e che sono lì e che lasciano dispiacere perché il primo X-Men e il secondo X-Men di Singer erano notevoli X-Men inizio era molto bello X-Men giorno di un futuro passato uguale già Apocalypse mamma mia qui siamo proprio al deflagro perché oltretutto la regia del nostro è anche abbastanza mediocre in tutto non c'è forza nel montaggio non c'è spinta questi personaggi non hanno assolutamente l'idea insomma di quello che dovrebbero fare per farci appassionare davvero una storia che in realtà risulta banalissima in un insieme però complicatissimo dove tutti anche i più bravi attori come James Game Maker Boy si perdono completamente al Michael Fassbender all'interno di effetti speciali che si mangiano tutte e di una narrazione troppo spedita non si ha mai il tempo di riuscire a riflettere su ciò che sta succedendo e su celebrare cos'altro che non ha alcuna importanza poi a livello di quello che in realtà ci vuol dire il film ma solo a livello estetico e a un certo punto ti sbatti il cazzo e fai basta con questi effetti speciali li avete fatti bene quanto mi pare ma vi avete rotto i coglioni poi quel finale insomma moiano un po' tutti il finale buonista sta cazzata dell'altro che vanno in Francia giù a scacchi insomma un po' una specie di rilettura diciamo così quenca che diventa il capo della scuola che veramente lascia il tempo che trova è uno di quei classici film e ci rimasi malissimo poi quando vedi chi non c'era Singer questo qui proprio che gli hanno cambiato anche tutto l'ultimo atto perché non gli andava bene alla produzione che si dovrebbe fare cazzi suoi comunque far lavorare i registi ma detto questo il film proprio non va è il classico film che zoppica non essere ben recitati Sophie Turner non è in parte Jennifer Lawrence e la sua Rave non vedevano l'ora di Morissi a Pisce dai primi 5 minuti Nicholas Holt Teisha, Eridan e via dicendo sono tutti comunque sottotono perché evidentemente hanno letto questa sceneggiatura che sinceramente è veramente di poco conto sempre dello stesso regista che aveva deciso di dare la possibilità di fare come protagonista una donna e va benissimo la possibilità di dare più spazio diciamo alla finisce e va benissimo però poi quando scrivi una sceneggiatura scrivi lettori e che abbia un minimo di senso narrativo e che ci possa piacere ci possa impegnare il tempo sia rilassandoci per guardare un grande spettacolone che ci intrattenga ma anche un minimo che ci racconti Varcosina perché non si può più veramente trovare dei twist dei personaggi scritti così a cazzo di cane e poi trovare anche dei momenti in cui sembra addirittura che il film si stia spengendo in una piccola serie tv sfilacciandosi in dialoghi inutili e in perdita di tempo che fanno annoiare quindi questo è un classico film brutto non bruttissimo un classico film mediocre il classico film medio lo guardi una volta poi fai The Dark Fenix era tanto canto questo personaggio è ridotto a una barzelletta pensa a come era nato pensando nel finale bellissimo di X-Men 2 con lei sott'acqua invece è ridotto a questa buffonata insomma dove scoppia tutto e dove insomma ci si incomincia ad avvicinare pericolosamente ai peggiori fumetti appunto ai peggiori cinefumetti mai fatti quindi The Dark Fenix per me è un fallimento totale flop anche commerciale vorrei vedere è una palla micidiale e poi tutti gli altri personaggi risultano davvero troppo abbozzati e alla fine non si riesce a affezionarsi a nessuno nemmeno se essi è come me amici in un certo senso dei mutanti e degli X-Men cioè a un certo punto veramente ti sei fatto due palle che non finiscono più quindi se siete degli amanti degli X-Men a ogni costo probabilmente questo film ce l'avete va se siete dei completisti ce l'avete già io il link per chi lo vuole lo metto qui sotto io non lo comprerò mai però insomma donate sul Patreon mi piace iscrivetevi al canale di sotto c'è il pulsante del super grazie potete donare direttamente da Youtube Facebook Instagram e poi insomma e se volete comunque dargli una possibilità questo X-Men Dark Phoenix è lì lo potete guardare da tutte le parti potete comprarlo ripeto dal link qui sotto se siete amanti del genere totale però io vi avverto secondo me è probabilmente insieme a X-Men conflitto finale il più brutto di tutta la saga poi insomma a voi l'ardua sentenza per me rimane veramente una sola e ci rimasi di merda grazie a tutti